Il titolo ormai sembra a portata di mano Non è facile trovare spazi Ci provano con la circolazione di palla Occhio attraversone E c'è la traversa Abbiamo negato il vantaggio alla formazione avversaria Asà Si avvicina all'area Palla spazzata via C'è il pressing Calu Intervento efficace del difensore Che intercetta in là Buon pallone filtrante Offside che ci sta tutto Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta Palla recuperata Ha centrato il portiere con tutto lo specchio della porta a disposizione Errore grave Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone Si mette col corpo tra palla e difensore Intervento sicuro del portiere che allontana Sala Asà Azione interrotta Difensore che capisce tutto Arbitro che assegna il calcio di posizione Non penso che andrà il tiro da lì Meglio metterlo addentro Per cercare una deviazione Pareggio che evidentemente non accontenta il pubblico di casa Che vorrebbe la vittoria E sembra indispettito dalle perdite di tempo della squadra ospite E' chiaro che per loro sarebbe un ottimo risultato Attenzione Ecco il gol C'era un passo dal trionfo Oggi basta un pari Ma dopo questa rete Tutto sembra ancora più semplice Non è ancora finita Sala Palla recuperata dagli avversari Asà Brutto passaggio Recupero facile Pallone profondo Pericoloso Ha saltato l'avversario con un numero Numero veramente di alta classe Romero Provano con il pressing a recuperare il pallone È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento Asà Asà Sala Perdono il pallone Occhio a questo rancio A metri davanti a sé Attenzione Occhio al traversone Senza problemi il portiere Qui bravo in uscita Tutto pronto Si parte con il secondo tempo Asà Apri il gioco Asà Prova ad andare Portiere che blocca Senza problemi Premia la corsa Sulla fascia Può sfruttare lo spazio lungo la corsia Si fanno vedere i compagni Danzei Calu Intervento tempestivo del difensore Che intercetta il passaggio L'intervento del portiere che allontana Palla buttata via L'ha letta bene il difensore Bel passaggio Un altro ottimo tocco Provano a aprire la scatola difensiva avversaria Bene qui il difensore Ha chiuso E c'è il tiro C'è l'intervento del portiere Che evita il gol Parata splendida E arrivano gli applausi Giusto sottolineare questo gesto Troppo spesso si sottovaluta La figura del portiere Occhio al tiro della bandierina La difesa la meglio E allontana il pallone Occasione Niente da fare Situazione abbastanza evidente di offside Palla nuovamente in possesso Spazzano via il pallone Palla messa dentro Attenta qui la difesa Palla allontanata Sala Andiamo da Matteo Barzaghi Quanto c'è da giocare Matteo? Se n'è andata Pier la prima ora di partita Mancano altri 30 minuti circa al novanteso D'accordo? Grazie tanto a Matteo Barzaghi Può cercare il cross Palla recuperata Azione interrotta Danzee Stanno vincendo Fittarete i passaggi Non hanno ovviamente molta fretta Vediamo se crossa La rimette in mezzo Attenzione Fittare Segnano ancora Sono davvero un passo dal titolo Oggi Lo ricordiamo Basta anche soltanto un pareggio Hanno incrementato il vantaggio Portandosi sul 2 a 0 Asà Chiellini Asà Buona lettura del difensore Su un brutto passaggio C'è spazio per andare Attenzione pericolo Parata eccezionale questa Che salva la porta Piovono applausi Dalle tribune Giusto Ha compiuto un vero e proprio Miracolo Sembrano ormai Avere la situazione Sotto controllo Danzee C'è spazio Occasione Cerca la rete La spazza via Cerca la sovrapposizione Posizione buona per il cross Buono l'intervento del difensore Che spazza via Palla in falo laterale Palla riconquistata dagli avversari Rimessa battuta Proprio male Sala Asà Attenzione Occasione E' il pallone Che supera la linea Autocollo Ecco il tribice fischio Che mette fine al match Acolto